Un salto nel dolce tra croissant, muffin e molto altro. Il secondo appuntamento dedicato ai 40 anni del SIGEP a Rimini Fiera dal 19 al 23 gennaio 2019 ci porta nel mondo dei prodotti per bar, pasticcerie e panifici. Tra gli stand del Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè abbiamo intervistato il direttore commerciale di San Giorgio S.P.A. e l'amministratore delegato di Forno d'Asolo. Rimini certamente è un momento importante per il nostro settore per cui ancora una volta San Giorgio, azienda di Salerno, è presente a questa manifestazione. Per noi è un momento importante perché cogliamo l'occasione in questa fiera di incontrare tutti i nostri clienti italiani ma ormai da qualche anno per noi è un momento importante perché cogliamo l'occasione di incontrare molti operatori internazionali. Ormai la fiera è diventato un'occasione per presentare i prodotti nuovi della stagione che sta aprendosi e quindi anche quest'anno San Giorgio è presente con un buon numero di nuove referenze che vogliono cogliere quelle che sono le nuove tendenze di mercato. Per cui usciamo con due craffen ai cereali, uno vuoto e uno farcito. Abbiamo poi una gamma di muffin. La San Giorgio da quest'anno è un produttore di muffin. Dietro di me vedete una gamma dei muffin che stiamo presentando in questa occasione. Pensiamo per noi che sia un'opportunità per entrare in un altro settore della colazione. E poi non solo, abbiamo altre estensioni di gamma che tutti gli anni portiamo in fiera, per cui spero che ancora una volta la fiera sia un'occasione per noi per soddisfare i nostri clienti e soprattutto per darci l'opportunità di continuare a crescere come stiamo facendo in questi ultimi anni. Trent'anni di esperienza, un'azienda che ha sempre operato in maniera molto diretta con una distribuzione propria direttamente nel punto vendita, oltre 40.000 punti vendita serviti. Un'azienda però di grande qualità anche dal punto di vista produttivo. Abbiamo due siti produttivi, uno concentrato sul mondo della colazione, l'altro invece più sul mondo del dolce, però anche un'azienda che sta operando su più marchi. Adesso attualmente abbiamo acquisito una grande pasticceria che è la che possiamo però far realizzare ai nostri clienti con l'obiettivo appunto di una massimizzazione della qualità dei prodotti ma anche delle opportunità di business per i baristi e per gli imprenditori del settore orecca.